Ed ora faremo un brano che ha reso celebre e anche intramontabile Tina Turner, ovvero The Best. Suonano questo brano Giorgia alla batteria, David al basso, Lucio e Alessandro alla chitarra e Lisa alla tastiera. Ah giusto, io sono Lisa. Con questo vi salutiamo e speriamo di ritrovarci qui anche il prossimo anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.